Il mio sovrano Posso neppure dire, i batteri, muove ma i batteri. Chi lo vuole il caffè giurato? Uffa! Nonna, ma la zucca la quale è grande di quello e questo? Nonna, la zucca... Nonna! Nonna, la zucca la quale è? E' questo o quello? Eh? Nonna! 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 Lo zucca la quale è? Quello o quello? Eh? Prendo la mano! Ma adesso quattro! C'è il suo figlio! E' l'abbraccio la quale è! Non prendere a casa! Francia su Roma! Bisogna espatriare! Mi godo gli ultimi istanti di libertà! O si espaglia o si mette i sacchi di calma! Ma questo è quello che diceva! Che sono normali dopo il bombardamento delle televisioni, giornali, allarme, fascismo, non le faccio! Ma che c'è questa cosa? La vita è saccata, saccata, saccata! Eh? Eh? No! Ma c'è l'altra idea! Diciamo eh! Un'altra idea! Secondo me è fondamentale! Vede anche questo discorso del patrioteca! E tu ti dici allarme, allarme, allarme! E poi? Nel momento, nella notte in cui... Allora! Allora! Che vuol dire... Allora! 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 No! No! Ok, mamma! No!